salve ok articolo 19 vediamo un po cosa dice tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa aia in qualsiasi forma individuola associata di farne propaganda di esercitarne in privato in pubblico il culto purché non si tratti diritti contrari al buon costume a quindi non si può stare nudi per una questione religiosa ci vuole il costume ma anche questa roba aboliamo le religioni e aboliamo i costumi e ognuno può andare in giro con a fare sui suoi riti con il corpo nudo e masturbarsi e sborrare in giro per la città senza che la costituzione ci venga a dire cosa possiamo non possiamo fare a posto quindi anche questa roba qui è finita in meno di un minuto ciao